al vivo vi do il benvenuto a tutte e tutti voi voglio fare una live estemporanea non so quanto tempo durerà ma questo è il mio secondo canale poi va bene vediamo un po da molto che lo facevo una live in questo canale ci sono delle funzioni nuove che sono io schiaccio avvia un sondaggio avviamo un sondaggio vorresti abbonarti al mio canale san chan abbiamo sondaggio così tanto per fare un sondaggio perché farò altre live in questa non riesco condividi in telegram ho scelto questo sfondo il soffitto bianco sto usando un cellulare vecchio già ci sarà un di lei pazzesco però voi ditemi voi io faccio questo programma cercando di portare gente tanto non è che in questo canale secondario io possa fare molto perché non ho molti iscritti circa 80 non ho ore di visualizzazione non ho monetizzazione da molto tempo che l'ho trascurato non è come il mio canale principale infatti mi sto chiedendo ma perché a quest'ora sto qua non faccio una live di là perché ogni tanto fare delle cose strane mi piace allora qua ci ritroviamo poi bisogna vedere chi è che guarderà questa live però ecco io piuttosto devo tradurre dei video che ho caricato qua e che io ho visto che le live ultimamente non so se non le organizzo su qualche argomento vanno poco perché ultimamente interviene meno gente che nel passato io ho fatto delle live fatto delle live che ci avevo anche 40 50 persone magari nel lasso dell'intera live di due ore intervenivano 40 50 persone in scaglioni di 4 adesso non è più così non intervengono 40 50 persone e non perché è stato il periodo quello in cui si doveva rimanere in casa no sto parlando di live fate nel 15 del 17 avevo un gruppo di 45 almeno 40 50 persone adesso magari in tutto intervengono 45 persone che sto parlando nel mio canale principale san ten cian e non sto parlando di questo canale questo canale faccio una live ancora ancora sto a zero come nella piattaforma viola che infatti ho tolto dal cellulare c'ho ancora la conto nella piattaforma viola ma in pratica nulla ci sono rimasti dei video salvati se volete cercare come come santa in cian cercate gli ultimamente ho fatto molti molti short nel mio canale principale di youtube principale il quello più importante più grande con 3.000 passati iscritti con 1300 visuali no un milione quasi 400 mila visualizzazioni del canale con un pio che da solo quasi supera le 200 mila visualizzazioni con molti da 70 mila visualizzazioni e youtube per la quarta volta mi pagherà però nel giro di dieci anni e mi pagherà adesso sto a 80 dollari devo superare i 100 dollari ecco che se nell'altro canale perché qua non potete non c'è la monetizzazione nell'altro canale santa in cian mi regalate un super grazie vi fate un favore volete farmi un favore datemi una donazione e il vostro commento sarà messo in evidenza poi vabbè intervenite in questa poi il bello è che io non posso leggere non so se c'è qualcuno in chat dovrei aprire un altro cellulare che io non so se c'è qualcuno in chat vediamo qua c'è il tasto chat chat live novità chat in primo piano ora puoi mettere in evidenza un messaggio da far leggere gli spettatori nella parte superiore della chat live fai clic su un messaggio per bloccarlo usa il minuto azioni per sblocarlo vabbè ma io non vedo nessun non vedo nessun non vedo nessuna chat dove sta allacciata questo che se metto gli effetti speciali mi rovina l'immagine ma tanto questa è una una live sperimentale voglio mettere alla prova youtube la sua applicazione facciamo raggi di sole è un po come i comandi sono un po io non vedo la differenza bollicine che poi si si vede male vediamo dopo il video quando sarà salvato adesso non simono discoteca mi piace di più la 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 nessuno mi segue nessuno chatta in questa chat sto perdendo ho già perso dieci minuti della mia vita ma era molto che non facevo nulla di nuovo in questo canale allora ho detto per fare una live in kuwait che proprio non serve a nulla almeno la faccio nel mio canale secondario la live secondo voi ho fatto bene io non so se poi qualcuno di voi guarderà dopo questo video ci sono 93 persone quelli che vanno a guardare una mia live sul mio canale principale sono al 10 per cento degli iscritti o anche meno qua se fossero 10 per cento sarebbero nuove persone a federico bargiacchi ciao amico voglio sereno sempre e magari magari sereno la serenità è una cosa che si deve conquistare e io io purtroppo ancora non l'ho conquistata del tutto perché a volte la serenità se tu non hai delle sicurezze nella vita non sei sereno è quello il fatto quella è la faccenda comunque grazie in questo canale non mi si può fare donativi però siccome non avevo nulla di particolare da trasmettere allora non so se ho fatto bene ho fatto male già siete in due a seguirmi non so chi è il secondo però caro federico bargiacchi ho detto faccio nel mio canale secondario questa live perché tanto non ha contenuto e tanto per farla tanto per perdere tempo non mi sono preparato su nulla però ecco se tu vuoi comprare un super grazie e compralo nel faccio un po di infomercato nel mio canale principale che tu mi segui lì di solito e ho voluto voluto lanciare questa live qua per vedere come mandava perché magari non si sa mai dovessi aumentare le visualizzazioni pure qua raggiungere la monetizzazione pure qua io in questo canale conservavo di solito si chiamava santenchan radio podcast perché qua salvavo gli episodi di sprecher ma sprecher che prima ti dava dieci ore di trasmissione di podcast gratuito e 5 di live adesso mi sembra che ti fa fare cinque o dieci episodi di 15 minuti ciascuno con un massimo di cinque ore o di due ore e mezza però alla fine non riesce a fare nulla e allora non ho più usato sprecher e così allora ciao amico grazie di seguirmi di seguirmi qua di seguirmi la e forse avrei la prossima volta all'inizio di là la live tanto anche se non ho contenuto e che il contenuto mio abituale sia sto granché e niente e tutto tutto bene come va allora qua ho lanciato un sondaggio che nessuno ha votato vorresti abbonati al mio canale santenchan vabbè che sono due persone che hanno partecipato mica si preoccupano di rispondere vorresti tra l'altro non ti abboni vorresti abbonati si vorrei ti rispondono e poi poi non si abbonano chiaro che la domanda a fare no vorresti sì mi vorrei tanto abbonare vorresti comprarti una super chat un super grazie un super prego uno sticker sì sì vorrei 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 sembri giovane sembri che hai che hai trent'anni e non lo so prima trent'anni me ne daranno molti di meno poi e 40 mi davano trent'anni adesso mi continuano a dare trent'anni o non hanno fantasia o non so la gente ridotta male a trent'anni gente con la mia età ne dimostra di più ma ma io non ho trent'anni non ho 40 francamente mi guardo e dico come che me ne me ne danno di meno di anni io io credo di dimostrarli tutti poi certo non mi faccio prendere dello scoraggiamento non so non so ci sono dei giorni che sono molto scoraggiato giorni che che mi vengono memorie mi vengono ricordi il passato che non passa cose da nulla e giorni che che sono più estroverso però quanti sogni quante speranze quanto quanti idee che uno ha coltivato quante cose e adesso le due persone che c'erano se ne sono andate quante cose che abbiamo sognato che abbiamo sperato e questo è un messaggio un messaggio per la smemoria e una smemoria per per dimenticare è un messaggio lanciato nel vuoto ma mi ricordo tutto quello che uno ha vissuto negli anni 80 90 io non ci ho mai creduto tutti quei programmi televisivi soprattutto dopo il 92 che pretendevano cambiare il mondo perché il mondo suppostamente stava cambiando tangentopoli mani pulite i programmi di travaglio santoro tanti altri bruno vespa ferrara funari addirittura nel calcio il processo del lunedì maurizio costanzo show che parlava contro la mafia tutti avevamo delle aspettative o ci mettevano in testa delle aspettative anche se non lo volevamo riconoscere se dicevamo cambia tutto ma alla fine nulla cambia eppure riguardando al passato riguardando al passato si rende conto quante energie che si è sprecato da giovani come si è stati idealisti io non ho avuto mai nessun ideale l'ideologia non mi è mai interessato perché l'ideologia è un insieme organizzato di idee politiche filosofiche e religiose io non ho mai abbracciato nessun ideale politico sono sempre stato ateo e non ho mai avuto nessun ideale adesso che ci penso sono sempre stato scettico forse un po cinico ma comunque le energie che uno ci metteva a seguire questi programmi fino alle 11 di notte la mezzanotte non dormire di notte per guardare questi programmi e poi passa tutto passa cambia tutto cambia e poi dopo le feste arcore di silvio berlusconi dopo il 2000 c'è stata a roma la festa di quelli vestiti da porci vi ricordate della giunta di sinistra quindi che significa destra sinistra centro tutti uguali e noi come dei cretini a discutere tra di noi a litigare in famiglia nuovo da questo nuovo da quell'altro no questo è cattivo no quello è cattivo quello amministrato male il paese ma sono tutti d'accordo per fare porcate non solo dove ho messo strano ci avevo io mi perdo le cose ah sì l'avrò messo via ci fanno litigare tra di noi politici giornalisti gli statisti gli opinologi tutti quanti a parlare nella tele tutti quanti o che documento qua i filtri tutti quanti a parlare tutti quanti a opinare questo quell'altro giusto e sbagliato a organizzare delle dispute tra di loro questo mi sembra migliore a organizzare delle dispute tra di loro che poi magari finivano di filmare e si metteranno tutti a ridere insieme perché nella tele nella tele si guadagnano lo stipendio così così come noi youtubers generando delle finte polemiche magari litigando per davvero a volte picchiandosi ma voglio dire sono tutte delle forme di creare notizia non di riferire notizie perché i media i mass media che si pronuncia come si legge perché il latino non fate come i somari che dicono mass media anche perché perché allora non dire messe media se vuoi avere una cattiva pronuncia abbialo pure per mass i mass media devono creare notizie perché quando si dice l'industria dell'intrattenimento creano cartoni animati creano film telefilm quando si dice l'industria editoriale devono imprimere libri ma quando si dice l'industria dell'informazione si intende proprio che devono creare notizie avete presente quando non c'è nulla da dire l'estate il fine settimana allora o mettono in risalto qualche cosa brutta qualche azione brutta oppure dicono oggi si è superato una temperatura record e a catanzaro negli ultimi o dicono 100 anni o 20 anni o si accontentano di dire e da tre anni che a catanzaro non fanno 43 gradi e mezzo cioè magari l'anno scorso a catanzaro c'è stato un giorno di 43 gradi ma non di 43 gradi e mezzo vanno a vedere nelle statistiche tre anni fa hanno fatto 43 gradi e mezzo pensate che allarme da 43 anni e mezzo tre anni che non fanno 43 gradi e mezzo e poi il giorno dopo fanno 43 gradi e tre quarti e quindi allora sì che da 35 anni non facevano 43 gradi e tre quarti pensa un po che roba da non credersi entra nel guinness dei record tutti gentili giornali una volta che per esempio lo lancia rai 3 tutti i telegiornali a ripetere a ripetere a ripetere a ripetere vabbè non siamo sciocchi che seguiamo seguiamo il trend il trend il trondo ma quello che mi spiace non sono queste sciocchezze quello che mi spiace è che spendiamo il tempo delle nostre vite ce lo spendono la nostra classe dirigente che non posso esprimere giudizi o esprimere agli attributi di questa classe politica perché darebbero veramente mi censurerebbero il canale mi darebbero uno strike se ricessi tutto quello che penso di tutti i politici e di tutti i politici perché poi alla fine promettono cose ma fanno quello che gli è possibile fare perché prendono dei compromessi ma non con gli elettori come dicono non con te con me ma con chi ha finanziato capito non lo dire a nessuno che tanto lo sanno tutti è un segreto di pulcinella pur in italia come in nord america esiste l'equivalente delle lobby soltanto che in italia sarebbero illegali negli stati uniti no allora negli stati uniti costano centinaia di milioni di dollari le campagne elettorali presidenziali e di altro tipo e regalano quei soldi così hanno anche detrazioni fiscali le multinazionali le corporazioni i big le grandi famiglie e poi gli devono ridare quei soldi in favori ma ci guadagnano molto di più quindi alla fine siccome l'hanno legalizzato tutto detraggono pure dalle imposte da noi no ogni tanto c'è una nuova tangente dopo le mani pulite ogni tanto quando se lo ricordano ma quando quando beh adesso vi devo lasciare vi devo lasciare questa live la vedranno in pochi sono contento perché insomma ho potuto fare questa live nel canale secondario so che non guarderà nessuno questo sfogo di mezz'ora ma non volevo farlo nel canale principale perché insomma ho voluto provare ho voluto provare provare vediamo ciao